Buongiorno, buon sabato 3 agosto. Iniziamo la nostra rassegna stampa. Il quotidiano del Molise apre con quanto dichiarato ieri dal presidente della provincia di Campobasso, De Matteis. Povera provincia, sono finiti i soldi. Dal 20 agosto potrebbe venire a mancare la fornitura dei servizi essenziali. L'ente è costretto a fare la cura dimagrante. A rischio anche il riscaldamento delle scuole. Ancora Campobasso, compravendita di auto, scoperta una maxi evasione. Indagati sei salonisti. La finanza a zera, altre fonti di carosello. Berlusconi condannato, c'è chi lo vorrebbe in Molise per i domiciliari. Reazioni al verdetto della Suprema Corte. E' ancora politica. Il ritorno alle origini dell'Italia dei Valori. A casa di Pietro, passaggio del testimone con Messina a Montenero di Bisaccia. Lavoro, vertenza ETR, pronta la marcia su Isernia. I dipendenti protesteranno e sfileranno in corteo. Ancora da Palazzo Moffa, indennità consiglieri. A sorpresa, mille euro in più. Soldi che spuntano sull'ultima busta paga. E' ancora ricostruzione. Entro martedì disponibili 5 milioni per pagare le imprese. Ieri blitz di Gianrusso in protezione civile. In cassa un'altra sospensione. Campobasso, bombola di gas in fiamme. Palazzo evacuato. Attimi di panico in via. 24 maggio. Spostiamoci adesso allo sport del quotidiano. Lupi, il sindaco di Bartolomeo. Un non privilegio. Nessuno. Per la serie di Isernia. Oggi il sì di panico. Firma il 92. Foglia. Eccellenza colpo Fornelli. Arriva Maruggi. Spostiamoci alle pagine interne. Sanità, frattura, rilancia l'integrazione. Il presidente traccia un'ipotesi di revisione del sistema molisano. Per Campobasso annulleremo i doppioni creando un modello torvergata. Obiettivo 2015, pareggio di bilancio senza danni alla qualità. Debiti della pubblica amministrazione lancia imprese penalizzate. Anche Falcione contesta l'aumento delle imposte, ma si smarca da Api e Acem. Protezione civile, blitz di Gianrusso. Poi viene di nuovo sospeso. Ricostruzione. Arrivano i soldi per le ditte. Dimissioni Berlusconi di Giacomo in attesa. Il PDL è deciso a invocare la grazia al Quirinale entro il 16 ottobre. L'ex premier avrà tempo per chiedere misure alternative al carcere. Indennità Federico, ma quali tagli ci hanno aumentato lo stipendio. Il consigliere regionale di 5 stelle, 1000 euro in più in busta paga. Abolizione delle province, il DDL in CDM. Palazzo Magno, dipendenti in stato di agitazione, ma il governo tira dritto. Cambiamo noi 5 referendum lanciati dal PSI. Lasciamo il quotidiano e spostiamoci alla Gazzetta del Molise che apre con tutta la stila degli stipendi dei consiglieri regionali e dei presidenti. E ho detto tutti i costi della politica. Consigliere semplice, 9273, il presidente del Consiglio, 11164. Bene, e adesso andiamo a vedere a chi la Gazzetta oggi assegna l'Oscar del giorno. Va all'avvocato Angelo Piunno. È l'unica specie in grado di creare danno perfino a Satana. Un avvocato aveva stipulato un contratto con il diavolo con il quale avrebbe ricevuto fama, donne e successo in cambio della fedeltà. Dopo aver goduto pienamente dei suddetti servizi, l'avvocato, ormai appagato, citò Satana in giudizia facendo dichiarare la nullità del contratto per divieto di patto successorio. Il tapero del giorno va invece a Sandro Del Fattore, il segretario regionale della CGL in Molise. Non ha detto personalmente ancora nulla su quanto fatto dalla giunta regionale in merito agli aumenti della tassazione IRPEF, IRAP e Bollo Auto. Ad onore del vero è toccato a Sergio Sorella a chiarire la posizione del sindacato dopo il tavolo con i vertici regionali. Iorio era stato autorizzato ad aumentare l'IRPEF e non l'ha fatto. Frattore aveva promesso di no ed ha mancato alla parola data. La piovra politica ha molti tentacoli. Frattore e compagni hanno scelto di utilizzarli, tassando senza distinguere il ricco dal povero, l'ambiente dal meno ambiente. Contro la casta anche la chiesa molisana, così radicalmente dipendente dalla parola del suo vescovo, è diventata improvvisamente afona. Lettera aperta con questo calendario venatorio, l'aggiunta Frattura ha umiliato migliaia di appassionati. Aumento tasse, ma la CGL che fa dall'entourage di Frattura si dice che il sindacato si è espresso a favore della scelta. Sergio Sorella smentisce e precisa, abbiamo chiesto di ritirare la delibera. La casta si taglia i costi e lo stipendio sale di 1000 euro. Tutti i numeri della vergogna approvati dal Consiglio regionale e dall'ufficio di presidenza. E Frattura chiede scusa ai molisani per aver proposto e votato l'aumento delle tasse. Spostiamoci adesso a primo piano con l'apertura dedicata a Berlusconi. Berlusconi preme per le elezioni. Il Cavaliere ha radunato i suoi parlamentari, all'incontro anche il sottosegretario De Camillis. Il PDL si prepara la piazza per chiedere la grazia a Napolitano. Da Montenero il segretario dell'IDV esulta, giustizia è fatta. Ancora da Palazzo Moffa, rimborso chilometrico, altro bonus per la casta. L'adeguamento degli stipendi al DL 174 si sta rivelando un blef. Vertenza ITR, bianchi, pago solo se revocate lo sciopero e la controproposta fatta ai lavoratori. Campobasso, auto vendute con il trucco, smascherata a maxitruffa. La finanza ha scoperto un'evasione da 15 milioni di euro. Venafro, mediazione riuscita, il Carsi ciannule 48 licenziamenti. L'istituto ha assicurato parte degli arretrati. Giarrusso torna al suo posto, poi la Regione lo risospende, ma è giallo sulla scadenza del provvedimento. Naturalmente stiamo parlando della protezione civile. E andiamo adesso alla provincia di Campobasso, De Matteis. Senza soldi, arrischio, riscaldamento nelle scuole. Il Presidente scrive al Prefetto e al Governatore Frattura, così non si può andare avanti. Andiamo in Basso Molise, Termoli. La processione di San Basso in diretta. Il Santo Patrono salirà sullo Cosimo Padre. Lo sport di primo piano, Serie D, Isernia, Panico, a lavoro col gruppo Bianco Celeste. Campobasso, grande attesa per l'incontro tra Comitato e Marco Meo. Nuoto, 77 anni, fa il primo exploit dello stacanovista, Casolino. Anche per primo piano guardiamo le pagine interne. La casta non smette di stupire, spunta il rimborso chilometrico. Si aggiunge a quello per l'esercizio del mandato da 4.500 euro, da 360 a 860 euro in più. Le cifre ufficiali delle nuove indennità in due delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Sorprese anche per i fondi ai gruppi. Martedì, invia 4 novembre, discena l'indignazione dei promosso dal Movimento 5 Stelle. Due papi all'ARPC, Gianrusso torna in ufficio, poi la Regione lo risospende per due mesi. Giallo sulla scadenza del provvedimento, sul contenuto del nuovo stop al capo della protezione civile. Calendario venatorio, cacciatori sul piede di guerra, la nota delle associazioni. Il PDL chiede la grazia per il senatore del Molise, Berlusconi a Montecitorio, riforma della giustizia o subito al volo. E i suoi pressano napolitano. Palofrattura illustra al PD la sua sanità, spesa, oculata e integrazione. Ce la faremo. Per Cattolica e Cardare le propone un modello per torvergate, con percopo e ruta, ha definito la coabitazione. Il dibattito tasse, lancia e difende assi industria, aumento che distrugge l'economia. Bene, adesso spostiamoci al quotidiano telematico, informa Molise. In primo piano, ordinanza antirumore, APEM, nessun rigetto del TAR. Fondazione Giovanni Paolo II, Petraroia, ingiusto e immotivato il licenziamento. Mille euro in più di stipendi ai consiglieri regionali, che vergogna. I componenti del progetto Molise Medievale chiedono pubblico incontro a chi sta denigrando il lavoro svolto. Fanelli per la prima volta a Riccia, diamo input per itere legislativi regionali. Lotta all'evasione fiscale, recuperati a tassazione circa 15 milioni di euro, 6 persone denunciate. Ordinanza antirumore, il TAR rigetta il ricorso dei gestori dei locali notturni. Scarabeo, chiarimenti sulla fideiussione alla ITR. Consorzio di bonifica di Larino, soci col diretti chiedono rimborsi dei contributi per emergenza sisma del 2002. Bene, adesso spostiamoci invece ai fatti del nuovo Molise, che apre con quanto sta accadendo a Pettoranello, ovvero con l'industria ITR. Non si trova un punto di mediazione, Patron Bianchi fa orecchie da mercanti alle richieste dei lavoratori. Lunedì corteo a Isernia. Edilizia Vincenzo Cotugno convoca una riunione in regione, il consigliere delegato alla programmazione affronterà i problemi del settore con i vertici di Ance, Api e Acem. Ci sarà anche Pierpaolo Magni, l'assessore regionale ai trasporti. Reduzione costi della politica dal comune di Campobasso, la strigliata ai regionali. Basso Molise, percorsi e violenza sessuali alla sua donna, arrestato un quarantenne. Campobasso finanza evasione fiscale sotto controllo concessionarie d'auto. La curiosità per la prima volta ha ripetuto il sorteggio per la barca di San Basso a Termoli. Crisi edilizia Cotugno convoca in regione, il consigliere delegato alla programmazione affronta le questioni legate alla crisi. Appuntamento in via Genova, intanto continua il botte e risposta, falcione e replica ad Api e Acem. La provincia di Campobasso batte cassa, interromperemo i servizi, il presidente De Mattei sa scritto al prefetto di Menna. Raccolta firme per l'abrogazione del gioco d'azzardo, questa l'iniziativa portata avanti ieri dall'Italia dei Valori. La Casina dell'Acqua ha presentato il progetto. L'iniziativa mira ad incentivare l'utilizzo idrico pubblico e diminuire il consumo di plastica. Conf cooperative sarà un'occasione per creare impresa con costi di ammortamento bassi. Reduzione costi della politica da Palazzo San Giorgio e consiglieri regionali. Siate concreti. E qui si riprende la maxi evasione fiscale e la finanza recupera 15 milioni di euro. E ancora stop alla Movida, il Tar respinge il ricorso dell'Apem. Bene, lasciamo i fatti del nuovo Molise e spostiamoci al tempo. Naturalmente in premissa la pagina dedicata alla Molise. Venafro ormai salvi tutti i posti di lavoro al Carsic, scongiurati di servizi per i pazienti del centro che si occupa di riabilitazione. Raggiunto l'accordo che prevede il pagamento di tre mesi di stipendi arretrati ai lavoratori. Petraroio, il nostro obiettivo è quello di ridurre la mobilità passiva. Rocca Mandolfi, una notizia di cronaca, va nel bosco e perde l'orientamento. Cercatore di funghi ritrovato fortunatamente dai vigili del fuoco. Campobasso decreti ingiuntivi alla ITR. Gianrusso, spodestato, si riprende il posto alla protezione civile. Truffa al fisco da 15 milioni 6 gli imprenditori denunciati. E ancora Campobasso, il TAR dà ragione al sindaco, stop alla Movida. Resta in vigore il provvedimento che vieta gli schiamazzi dopo la mezzanotte. Bene, lasciamo l'informazione regionale, spostiamoci alla nazionale. Come sempre, iniziamo da Repubblica. Berlusconi la grazia o si va al voto, ma il Quirinale respinge la sfida. Epifani no agli out-out. Ipotesi elezioni a ottobre. La minaccia al vertice dei gruppi dopo la sentenza. Il Cavaliere attacca i magistrati e chiede la riforma della giustizia. Ministri e parlamentari gli affidano le dimissioni. Monte Paschi Siena decidevano i partiti a Roma. Le carte dello scandalo. Mancini fa i nomi di Gianni Letta, Verdini e Rutelli. Allarme al-Qaeda, rischio attentati ad agosto. Gli USA chiudono 21 ambasciate. Preoccupazione in Medio Oriente per sedi diplomatiche e per i turisti. La stampa. Berlusconi minaccia la crisi. L'affondo dopo la condanna, riforma della giustizia o subito al voto. Epifani. Così rompe il patto di governo. Alfano, ministri pronti a lasciare i parlamentari del PDL. Chiederemo la grazia a Napolitano. Domani in piazza. La moglie di Alblaizov ci spiano. Anche in casa parla Alma Shalabayeva. Due mesi dal rimpatrio in Kazakistan. Parigi, non estradi mio marito. Taglio alto dedicato ad una notizia di cronaca uccisa da uno yacht. Mentre notava fermato il pilota. Non ho visto nulla. Tutto questo è accaduto a Camogli. La donna è ancora senza nome. Arriva il piano per salvare la cultura. Questo è il taglio basso della stampa. Ok dell'esecutivo all'unità speciale per Pompei. Fondi e musei stretta sui conti degli enti lirici. L'ultimatum di Berlusconi. Riforma della giustizia o urne. Questa all'apertura del tempo. Degli after l'ex premier sentenza basata sul nulla. Solo fango. Ministri PDL pronti a dimettersi. Avvertono la grazia. Oppure c'è crisi. Ed in prima pagina troviamo la fotonotizia di Obama. Al-Qaeda minaccia i turisti degli USA. Obama chiude le ambasciate. Americani restate a casa. Dopo la consulta a braccio di ferro Fiat Fium. Marchione resta a Detroit e diserta l'incontro. La prima esplosione è partita dal laboratorio. Naturalmente ci riferiamo a quanto accaduto a Città Sant'Angelo. Autoporti fantasma con denaro pubblico esposto del CNA Abruzzo. Nomine scandalo serve esperto commerciale. Va l'architetto. Rappresenterà l'Italia e l'Unione Europea. Imbarazzo alla Farnesina. Il messaggero Berlusconi pronti alle elezioni. Il cavaliere dopo la condanna. Riforma della giustizia o si voti. Il partito prepara la piazza. Letta un delitto. Far cadere il governo. Il PD avverte. Così rompe il patto sulle larghe intese. Ritirato il passaporto. Non residenza a Roma. Il PDL vuole la grazia ma il colle va chiesta solo dall'interessato. Il taglio alto dedicato al calcio. Scommesse non ci fu illecito sportivo. Lazio salva. Sei mesi invece a Mauri. Il Corriere della Sera. Voto e piazza. Questa la rivolta del PDL. Berlusconi riforma della giustizia o presto alle urne. Urne. Un corteo a Roma. Il PD basta. Prepariamoci a tutto. Letta un delitto. Buttar giù il governo. Tensione altissima dopo la condanna del Cavaliere. Partita l'esecuzione della sentenza. Via il passaporto. Montezemolo. La Ferrari. Poi i piloti. Alonso ha capito il nostro spirito. Il futuro è con lui. Torniamo alla politica. Il centrodestra. Ora la grazia. Manopolitano frena e invita a seguire la legge. Preoccupazione del colle per i toni drammatici. Allarme Al-Qaeda per i turisti americani. Washington chiude domani. 21 ambasciate. Allerta sui viaggi per tutto il mese di agosto. E chiudiamo con Libero. Ci vuole un po' di grazia. Schifani e Brunetta andranno da Napolitano a presentare la domanda. Se non sarà accettata, ci dimettiamo tutti. Torna l'asse magistrati sinistra. Ha notificato in 24 ore il decreto di esecutività della pena. Il PD è pronto a votare con grillo la decadenza di Berlusconi dal Senato. Liberiamoci dalla crisi. Come frenare l'impennata delle spese condominali? Lo vogliono dentro subito. Già ritirato il passaporto. Tola giustizia. Viaggio a tempi record. Le condizioni delle cavaliere tra governo e tentazione. Voto. Spostiamoci all'informazione economica. Il sole 24 ore. Spread ai minimi da due mesi. Tiene la scuderia Finvest. Mediaset perde l'1,9%. Mondadori sale invece dell'1,7%. Dopo la sentenza, la condanna di Berlusconi non spaventa i mercati. Gli operatori ritengono difficile una crisi di governo immediata. Il differenziare BTP Bund scende a 260. Berlusconi riforma PM o voto. Letta delitto se governo cade. Pressing del PDL sul napolitano per la grazia, il colle e la legge a dire che può chiederla. Telecom allarme profitti 2013. Primo semestre in rosso dopo svalutazioni per 2,2 miliardi. Ricavi semestrali in calo del 10% in Italia. Per salvare il rating tagli per 800 milioni. Il panorama del sole 24 ore. I disoccupati USA calano al 7,4%. Il livello più basso da 5 anni. Lasciamo dunque anche il sole 24 ore. Spostiamoci all'informazione sportiva. La gazzetta dello sport. Moratti dico grazie a Pellegrini, ma ora serve una vera squadra internazionale. Il presidente dell'Inter è la trattativa con Toiro. Ho deciso di guardare al futuro. È necessario espandere il marchio in tutto il mondo. Andiamo al calcio mercato. Milan, Leicic c'è l'offerta, non basta. Galliani vuol pagarlo 8 milioni. Andrea della Valle pochi. Il giocatore dice di voler restare decisivo l'incontro di lunedì con i dirigenti Viola. Fiorentina su Giulio Cesar ha trovato l'accordo con KPR, pressing per il portiere. Juve vuol soffiare al reale il gioiellino con Dogobà. Gioca nel Siviglia. Scommesse sei mesi per Mauri di Martino, così non si aiuta il calcio. Il procuratore di Cremona critica la sentenza della disciplinare. Incomprensibile come certi reati si trasformino in omessa denuncia. Il Murigno ha promosso Mazzarri. Questo è il taglio basso della gazzetta. I due faccia a faccia per mezz'ora negli USA. Walter è l'unico giusto e l'uomo giusto per i nerazzurri. Si sono parlati in gran segreto prima della sfida di Guinness Cup che nel Chelsea ha vinto per 2 a 0. Moto Eterno Vale correrò fino a 37 anni il futuro di Valentino Rossi. Il ministro soldi allo sport da difendere l'intervista a Del Rio. Spostiamoci chiudendo al Corriere dello Sport. Gervinio alla Roma, accordo raggiunto. L'Arsenal incasserà 8 milioni, quadriennale al giocatore. E per lo sfaldo sfida tra Napoli e Tottenham. Il Milan e gli Aici ce lottano per il sì della Fiorentina. Gagliani convince Pradè ma poi della Valle lo gela. 8 milioni non bastano, è braccio di ferro. Napoli esame da Champions, largo a Higuain. Benitez sfida l'Arsenal a Londra. Il forecast argentino debutta con la maglia azzurra alle 17.20. Lazio e Mauri non c'è illecito. Scommesse le sentenze confermate le nostre anticipazioni. Sei mesi al giocatore, ammenda Screb. Genoa salvo. Una multa per il Lecce. Il 16 agosto l'appello. Va ceduto oppure no caso Vucinic? La Juve si interroga. Via libera al tennis cybernetico. I giocatori avranno a disposizione una massa enorme di informazioni. Racchette con il microchip, occhiali con la telecamera. Dalla federazione internazionale, l'ok ha più tecnologia in campo. Il taglio basso è tutto per Federica Pellegrini. Sfiora la finale nel dorso. Pellegrini stanca. Sui 200 resta fuori per 13 centesimi. Bene, per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, con lo sport come sempre si chiude qui. Io vi ringrazio per averci scelti e vi auguro un buon fine settimana. Il meteo è offerto da... L'estate è alle porte e la voglia di vacanze inizia a farsi sentire. Scegli Accademia Britannica per la tua vacanza studio IMSS 2013. Visita il nostro sito internet o vieni a trovarci in Via Zurlo 5 a Campobasso. Previsioni del tempo per sabato 3 agosto. L'anticiclone nordafricano mantiene le proprie posizioni, favorendo una nuova giornata soleggiata con caldo intenso, ma senza troppi eccessi, grazie all'insistenza di moderate correnti settentrionali. Temperature stabili o in lieve calo, punte di 36 gradi sulle aree più interne. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o di maestrale sulle coste, mari generalmente poco mossi. Passiamo ora alle temperature. Campobasso minima 21, massima 33 gradi. Isernia minima 18, massima 34 gradi. Termoli minima 24, massima 31 gradi. Il meteo è stato offerto da... L'estate è alle porte e la voglia di vacanze inizia a farsi sentire. Scegli Accademia Britannica per la tua vacanza studio INPS 2013, visita il nostro sito internet o vieni a trovarci in Via Zurlo 5 a Campobasso.